Come mai il 90% della dialisi siciliana è finita nelle strutture private? Ci sono stati come i cani, ma forse le bestie si chattano meglio. Sala chiusa per mancanza di personale. In sala operatore ci buttavo io con la carrozzella, mio marito qua. Tu ti rivolgi giustamente all'altro tipo di Stato. E qua altro tipo di Stato, si sa chi è. Il dramma è che tu ti puoi abituare a questo. Lei si è abituato a questo? Io non mi abituo.